Succede che non siamo riusciti a tornare a vincere, succede che volevamo tornare a vincere, ci è mancato poco credo per vincere, ci è mancata l'ultima zampata finale, l'ultimo guizzo finale, però non ce lo dimentichiamo che non abbiamo ottenuto quello che volevamo, ce lo ricorderemo per la partita di domani, ce lo ricorderemo anche per la partita di domenica prossima, ed è chiaro che vogliamo tornare a vincere. Questo momento si porta dietro poi ovviamente dei malumori, dopo la partita Gonzales ha detto certe cose, o è di oggi l'intervista di Closia alla Bild che dice anche lui certe cose, lei come le valuta? Vedremo insomma, adesso poi vedremo quali saranno, rimaniamo a Gonzales. Quelle di Gonzales sono difficilmente sentibili? Vedremo poi il resto, per adesso non lo possiamo dire. Credo che sia importante che tutti i miei giocatori vogliano e abbiano la motivazione, gli stimoli per giocare e per sentirsi titolare. È così che li voglio, è così che li alleno. Per quanto riguarda certe voci, soprattutto quello di Clos, cado un pochettino dalle nuvole, perché a me più che le parole, sinceramente, servono gli atteggiamenti. Gli atteggiamenti parlano più di molte parole. E gli atteggiamenti di Clos, gli atteggiamenti di Gonzales, gli atteggiamenti di tutti i miei giocatori sono atteggiamenti super positivi nel lavoro, nella disponibilità e che, ripeto, che vogliono giocare di più. È lecito, è giusto, ma siamo tanti e c'è una natura che fa le scelte. A domani è importante, è importantissimo. Ripeto, vogliamo tornare a vincere. Credo che non abbiamo sbagliato l'atteggiamento nella partita di sabato scorso. Credo che ci sia mancato veramente poco, ma quel poco fa la differenza. E da domani vogliamo tornare a fare tutte le cose che sappiamo fare. Vogliamo tornare a farle bene. Quindi è una partita, è una competizione che ci interessa, che ci preme, che ci può aiutare a raggiungere anche essa il nostro obiettivo. Quindi sicuramente faremo di tutto per fare bene.